Carlo Susini, ritorno in Abruzzo a distanza di oltre 5 anni per provare a salvare l'Aquila, così chiamato dalla società e soprattutto per supportare il ritorno anche di Perrone in panchina. Ha chiamato dalla società a cercare di fare un'impresa perché i play-out, a prescindere da quelle che sono le capacità dei giocatori, diventa un'impresa perché poi lì entrano in campo tanti fattori, quello psicologico, ambientale e vario, quindi speriamo di poter riuscire con tutti quanti a raggiungere questo obiettivo. Ecco, se dovesse definire il suo ruolo per quest'ultima fetta della stagione? Non mi interessa il ruolo, qui bisogna togliersi la stella da sceriffo, quindi il mio ruolo in questo momento è di, come tutti gli altri, cercare di ricompattare l'ambiente e cercare di portare la squadra in un regime di tranquillità mentale per poter affrontare i play-out con le qualità che ci hanno poi a livello tecnico. Ecco, ricompattare l'ambiente soprattutto anche, credo, verso i tifosi, sa degli ultimi avvenimenti, in questo senso è previsto un incontro, come si può muovere? No, non è previsto un incontro, in campo ci vanno i ragazzi e devo stare tranquilli, per la tranquillità intanto è per i ragazzi, cercare un attimino di infondere possibilità, poi per quanto riguarda i tifosi abbiamo bisogno poi di loro, quindi in una situazione del genere secondo me nessuno dovrebbe fare qualcosa che va contro questa impresa che dovremmo affrontare. Grazie 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 Grazie